Con Stefano Piretti di ADL Cobas, dopo più di 4 ore si è conclusa l'incontro in prefettura, un commento su come è andata? È difficile dare un commento dopo 4 ore di trattativa come quella che si è tenuta stamattina tra i lavoratori e Artone. Diciamo che comunque quello che è emerso in maniera molto chiara è che i lavoratori hanno ottenuto di poter rientrare e questo secondo noi è un risultato estremamente importante, non tutti perché i volumi sono calati, ma di rientrare alle dirette dipendenze di Artone e questo secondo noi è un risultato estremamente positivo perché significa riuscire a superare questo meccanismo incredibile e inaccettabile delle cooperative che si è mantenuto in questi anni all'interno della logistica. L'accordo comunque prevede una riassunzione immediata di 10 persone, entro marzo altre 10 e per gli altri la possibilità di uscire con un incentivo economico. Quindi diciamo che da questo punto di vista otteniamo comunque un risultato che è quello di garantire tutti quanti sia dal punto di vista del posto di lavoro sia in parte anche per quanto riguarda la parte economica. Ulteriore risultato che teniamo importante aver raggiunto è che la Artone si è impegnata ad assumere il 50% dei lavoratori che lavoravano prima in cooperativa direttamente, quindi diciamo il 50% di quelli necessari saranno assunti direttamente da cooperativa per cui molto probabilmente poi i numeri saranno anche più di quelli che sono stati detti prima, cioè più delle 20 persone che abbiamo citato.